eccoci qua cari amici portiamo a casa traccia di inizio marvin tour che ci porterà appunto nelle zone della toscana dopo un bel po di tempo si ritorna in toscana e niente qua sulla strada abbiamo avvistato questo questo maggiolone abbastanza vissuto e lo metto così molto velocemente in memoria eccolo qua proprio per dire appunto sono passato l'ho visto ecco qua chiaramente ho chiesto qua l'autorizzazione all'officina e mi ha detto di sì è un maggiolone che sicuramente a vederlo così va ripreso ecco per cui cari amici con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima anche perché qua dobbiamo fare abbastanza veloce qua vi faccio vedere un po in che condizioni era o in che condizioni è in questo momento targato targato bologna eccolo qua maggiolone eccolo qua targato appunto bologna ringrazio appunto il titolare che mi ha concesso così questo questo piccolo filmato di ricordo ragazzi ciao a tutti saluto max e tutti gli amici alla prossima voglio farvi vedere l'interno un po così da sistemare vediamo un po perché appunto non è che si voglia approfittare però insomma dato che sono sulla strada profumo vintage c'è ragazzi ciao a tutti a questo punto andiamo dal contadino di roveretto che è in macchina che mi aspetta spettacolo ciao a tutti